E la troviamo assurda perché dal punto di vista dell'inquinamento non può aiutare perché aumenterebbe l'inquinamento ai confini e quindi le emissioni non cambierebbero. Per di più la situazione commerciale dei negozi è molto critica, sempre più critica da anni a questa parte e questo tipo di blocco peggiorerebbe ancora le cose. In quanto già adesso vediamo che al mattino si è ridotto moltissimo il movimento di gente, eccetera. Per cui la situazione adesso sarebbe drammatica, anche per l'occupazione. Ritengo che sia una cosa assurda, è solo un sistema per fare cassa, un ulteriore balzello nei confronti del cittadino. Il centro ritengo sia di tutti e non solo per i ricchi che possono permettersi l'ingresso. Si parla di una ZTL stesa fino alle 19.30, una ZTL con l'ingresso a pagamento sui 4-5 euro, adesso sarà da stabilire. Per noi commercianti, per molti di noi commercianti, questa è la morte definitiva del centro. Visto che già si sta facendo abbastanza per mandare la gente altrove a spendere i soldi, a consumare, questa la vedo come un'ammazzata finale nei confronti dei commercianti. Torino sta perdendo turisti e questa è una realtà di fatto. Basta parlare con gli albergatori che hanno delle prenotazioni in media inferiori del 20-30% rispetto al solito. Se in più vediamo di non farci entrare neanche più i torinesi in centro, direi che è la ciliegina sulla torta. Così la vedo qui. Perché qua non stiamo più facendo niente, tra aria pedonale, ZTL, parcheggi cari, stiamo chiudendo tutti e non ce la facciamo più. È una città che non è preparata a chiudere completamente il centro storico e tutta la zona centrale perché non abbiamo i trasporti che possono supportare questo. E poi il commercio ha bisogno del passaggio della gente, gestito magari in un altro modo, ma è impensabile chiudere il centro della città e soprattutto far pagare un ingresso per chi deve entrare, che è la cosa che peggiorerebbe ulteriormente la situazione. Quindi la nostra protesta è legata a questo, si può discutere, si può trovare un accordo, una via di mezzo, non a questi patti. Quindi non si può pensare che chi lavora in centro debba pagare per entrare, ho un numero di ingressi limitati e poi incominciare a pagare dopo quel numero di ingressi. Noi lavoriamo, entriamo anche sette volte al giorno in centro, quindi come io mi dai 40 ingressi non ha senso. Aspettiamo che loro inizino a ragionare come commercianti o come residenti in centro e non come politici. Quindi mettersi nella nostra pelle di chi ci lavora, chi dà da mangiare alle famiglie, lavorando in centro. E quindi non veniamo qua a giocare, non veniamo a fare shopping, non perdiamo tempo, ma lavoriamo. E quindi il nostro è un diritto che abbiamo pagando le tasse. Noi paghiamo le tasse e abbiamo il diritto di avere gli stessi diritti che hanno quelli che sono fuori dalla ZDL. È una cosa semplicissima, non è una cosa complicata secondo me. Grazie a tutti.